ciao a tutti da Andy di Rec & Mix oggi parliamo del Listen My Compressor Plus di SSL un plugin derivato dal famosissimo ormai compressore presente nella sezione di talkback delle console SSL questo compressore presettato era stato inserito infatti nel circuito di reverse talkback cioè quello che dava la possibilità a chi stava in regia di ascoltare quello che dicevano i musicisti nella sala di ripresa per fare questo precedentemente sulle altre console bisognava impiegare un canale del mixer per gestire il ritorno dalla sala di ripresa nelle nuove console SSL al tempo era stato invece introdotto questo circuito in modo da non dover sprecare un canale per comunicare con i musicisti ma siccome le sale di ripresa di solito erano molto grandi e non si poteva prevedere dove sarebbe stato posizionato il musicista o i musicisti si è scelto di inserire questo compressore automatico in modo da tirare su qualsiasi segnale entrasse nel microfono che poteva essere anche distante rispetto a chi parlava durante le sessioni di registrazione di Melt il terzo album solista di Peter Gabriel per errore Hugh Patgham schiacciò il tasto di reverse talkback mentre Phil Collins stava suonando la batteria e quindi tutti in regia sentirono questo suono massivamente compresso da questo compressore tutti rimasero impressionati e volero aggiungerlo nella registrazione ma questo non era stato previsto perché il circuito andava direttamente nella sezione di control room della console quindi nella notte il tecnico del townhouse studio cablò l'uscita del reverse talkback nella patch bay dello studio in modo da poterlo poi patchare in qualsiasi canale della console vediamo infatti cos'era successo qui abbiamo adesso una room di batteria dove aggiungiamo il listen mic compressor per emulare quello che era successo nella control room del townhouse studio ora sentiamolo insieme a tutto il resto della batteria prima senza e poi con il listen mic compressor questo suono molto particolare per l'epoca caratterizzò un sacco di produzioni questo plug-in però aggiunge delle funzioni in più che sono derivate dal modulo 500 prodotto negli ultimi anni da S6. infatti abbiamo un high pass filter e un low pass filter escludibili e variabili il mix dry wet per creare la compressione parallela direttamente sulla traccia un circuito chiamato scoop che inverte la fase del segnale compresso questo per applicazioni creative e un altro circuito chiamato split che va a sottrarre nel segnale dry la porzione dello spettro selezionata dai filtri per esempio se metto un high pass filter intorno ai 100 hertz nel segnale dry avrò solo da 100 hertz in giù mentre nel segnale wet avrò da 100 hertz in su lo stesso ragionamento vale anche per il low pass filter abbiamo poi la possibilità di utilizzare un segnale di side chain esterno e di ascoltarlo un circuito automatico per la compensazione del volume perso durante la compressione oppure un potenziometro manuale per regolare l'output attenzione che la regolazione dell'output è post il circuito di mix dry wet per le sue caratteristiche molto aggressive e per le nuove funzionalità aggiunte questo compressore adatto anche a produzioni e generi più moderni sentiamolo per esempio su un loop di batteria anche tenendo il segnale dry molto alto abbiamo subito una bella presenza e una bella spinta in più sentiamolo invece su un altro loop di batteria dal sapore un po' più vintage un altro loop di batteria dal sapore un po' più di batteria dal sapore un po' più di batteria dal sapore i tempi di attacco e rilascio fissi e molto veloci sembrano l'ideale per scolpire i transienti di una batteria ma non solo proviamo a sentirlo anche su un basso un po' più di batteria dal sapore un po' più di batteria dal sapore un po' più di batteria dal sapore data la sua natura molto aggressiva può essere utile anche quando volete dare carattere e incesività a una voce poveri illusi che rimanessi riverente ed immobile poveri illusi che rimanessi servile ed animo nobile poveri illusi che rimanessi riverente ed immobile poveri illusi che rimanessi servile ed animo nobile poveri illusi che rimanessi riverente ed immobile il listen my compressor plus è un processore molto particolare che grazie alle nuove feature aggiunte diventa ancora più versatile nel fusion il processore di ssl dedicato al mix bass e al mastering è inserito anche questo circuito per dare carattere persino ai mix quindi è lecito utilizzarlo anche in questa fase della produzione ovviamente dosando opportunamente il circuito di mix dry wet il listen my compressor plus può essere l'arma segreta all'interno delle vostre produzioni come sempre vi consigliamo prima di acquistarlo di scaricare la demo e provarlo direttamente nei vostri mix e se vi piace non lasciatevelo sfuggire ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video ciao